Incontriamo il direttore generale Antonio Durso nella nuova sede della parte direzionale in via Calamandrei che è una sede molto funzionale. Sicuramente la sede è assolutamente idonea ad accogliere gli uffici direzionali dell'Asla Toscana Sud-Est e della sede legale dell'azienda che resta ad Arezzo e di fatti abbiamo trasferito la sede legale proprio qui a via Calamandrei. E' una sistemazione provvisoria in attesa che si facciano i lavori di adeguamento a via Curtatone e che via Curtatone accolga il distretto, la medicina specialistica, quindi gli ambulatori e accolga anche il dipartimento tecnico. Tutto questo per permettere i lavori nella sede di via Guadagnoli per la realizzazione della nuova casa della salute di Arezzo, casa della comunità. Quando via Curtatone sarà distretto e poi la casa di comunità di via Guadagnoli sarà effettivamente tale? Allora, per quanto riguarda la sede di via Curtatone, nel prossimo, in questo mese, nel mese di marzo, inizieranno i lavori di adeguamento che avranno tempistiche diverse. Il primo piano e il secondo piano saranno ultimati entro il mese di marzo, per cui ad aprile il distretto e il dipartimento tecnico occuperanno rispettivamente il primo piano e il secondo piano. Il piano terra, che accoglierà gli ambulatori a via Curtatone, necessita di interventi di ristrutturazione maggiori. Pensiamo di terminarli per maggio. E la casa della comunità? La casa della comunità di via Guadagnoli sarà pronta nel primo semestre del 2026, in linea con la tempistica del PNRR.